Non voglio mai più vedere un Registil in vita mia, giuro, non ce la faccio più. Escono pure! Che sia Rocket League, che sia Apex Legends, che sia Worms, che sia Pokémon GO, il discorso non cambia, i soldi li spendiamo, e oggi li spendiamo per cercare un Pokémon Shiny, per cercare un leggendario Shiny, ma non un leggendario qualsiasi, bensì uno in particolare. E sarebbe stato facile, veramente molto molto facile farvi il video su Celebishiny, voglio dire, lo regalano, è garantito, è gratis, ce l'hanno tutti, è rosa, quindi è pure carino. Io ovviamente Celebishiny l'ho preso, ve l'ho anche appena mostrato, ma il video di oggi è incentrato su un altro leggendario, un leggendario attualmente disponibile nei ride, anche se nel momento in cui voi state guardando questo video probabilmente non lo sarà più, ossia Registil. Ho preparato questa squadretta, diciamo che non è proprio il top, ma ci sono dei counter decenti, cioè con anche il DUR 98 e il 40, ci sono degli elementi di spicco, ripeto, non è perfetta. Andremo ad affrontare, penso, una decina di ride. Una decina di ride... Oddio, poi dipenderà anche da quanti ce ne metteremo per trovare lo Shiny. Se troveremo lo Shiny. Visto che ve lo starete chiedendo, i ride li andrò a giocare tutti, tutti, tutti da remoto, utilizzando questa applicazione che sarebbe Pokeride, probabilmente la conoscerete, quindi mi farò invitare da remoto da altri giocatori da tutto il mondo, tutto ovviamente assolutamente legit e consentito. E allora niente, io vi invito a lasciare un mi piace, scrivetemi un commento, fatemi sapere se anche voi avete preso Celebishiny, se avete trovato Registil Shiny, dopodiché iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche che ogni sera dalle 21.00 vado in live su Twitch, i link sapete dove trovarli, descrizione o primo commento in evidenza. E detto questo, buona fortuna a me e buona visione a voi. Questa applicazione comunque è fantastica, ve lo garantisco, ha tante cose carine, del tipo quando entri in una lobby per i ride, in automatico ti copia all'interno del telefono il codice amico dell'allenatore Costa Ride, quindi è veramente facile partecipare, è veramente facile anche ostare se vuoi ostare un ride. Consigliata, consigliata. Dovremmo essere tutti pronti nella lobby, due minuti al primo ride. E dai, madonna, questa animazione ogni volta. Dalla palestra, gutter schuppen! Sicuramente l'avrò detto sbagliato. Oh, inizia la battaglia. Registil dovrebbe essere abbastanza scarsetto, del tipo 4-5 allenatori livello basso. Si fa abbastanza facile, mi sembra anche ci siano un Pokémon decenti in lobby, quindi sarebbe abbastanza noioso farvi vedere 100 secondi di fight o i secondi che saranno, quindi vi lascio direttamente alla ricompensa. Ah, che tra l'altro manco so quanto sia il 100%, quindi sarà tutta una sorpresa. Registil sconfitto, livello di amicizia aumentato, MT attacco caricato, 15 pre-pozioni brutto brutto. Zero caramelle rare. Peccato, due minuti e quindici, quindi di questo ritmo non dovremmo metterci troppo. Vediamo il primo. E il primo non è shiny, ma ci possiamo anche stare. Ripeto, non ho idea di quanto sia il 100%, ma non lo voglio sapere. Li catturiamo tutti, proprio tutti, 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 e alla fine li valutiamo e vediamo cosa sarà uscito. E nel mentre lui inizia a uscire dagli eccellenti a giro, va bene. Vediamo se è la volta buona. Sto spammando eccellenti a giro, non entra. Mancano poche pokeball e non è ancora la volta buona. Questo qua è strettissimo, se non entra in questo è grave. È vero che entri in questo qua? Assolutamente no. E allora il primo ride è andato. Ovviamente tutti i prossimi non li vedrete allo stesso modo, perché verrebbe un video lunghissimo e noiosissimo. Vi lascio solamente ai riepiloghi e agli shiny check. Ovviamente però prima un grazie alla persona che ha ostato il ride è sempre d'obbligo, perché se no sei una brutta e cattiva persona. Shiny check a caso su Vubat? Sono solo al secondo ride e mi sta già facendo male il dito. So bad. Vediamo questo com'è, normale pure questo. E mi sa che pure i punti lotta fanno schifo. Serve che vi dica come andrà a finire con anche le ultime pokeball? Secondo me non serve che ve lo dica. Vero che non serve? E invece è entrato, viva Dio, grazie. Oh mio Dio. Ma secondo me solo perché era il primo, ora si è sbloccato e va dentro easy. Guarda che carino Registil, non ti voglio valutare però, anche se so che fai schifo, perché sei peggio di quello di prima. Ma non ti voglio valutare. Stantler shiny check. Pronti per un altro epico shiny check. I PL li ho già visti, fanno veramente schifo, fanno veramente ribrezzo ancora di più di quelli di prima. Andiamo però a vedere se sarà la volta dello shiny al terzo ride. Non è la volta dello shiny. Ah che poi, piccolo dettaglio mentre cerco un'altra room su Pokeride. Quante ce ne sono? Ne voglio una però verificata. E con un host con abbastanza stelle. Registil è probabilmente... Questa qua è piena, questa forse ha spazio, ti prego? No, un'altra room. Questa dovrebbe avere uno spazio. Infatti ha uno spazio. Dicevo, Registil è probabilmente il più utile, se non l'unico utile tra i tre Regi. Quindi questo video ha un motivo. Probabilmente per gli altri due non l'avrei fatto. E anzi, per Regirock non l'ho fatto. Per Regice probabilmente non lo farò. Per Registil ha un senso. Soprattutto in PvP, lotte mega ultra, tanta roba. E vabbè, qua siamo in dieci addirittura, voglio dire. Abbiamo 14 ball, vediamo se è scini. No, non è scini. I PL sono sì più alti degli scorsi, però ripeto, valutiamo tutti alla fine. Ah, aspettando che questo Registil venga sconfitto. Vediamo, ed è normale con PL bassissimi. E caramella L di Registil, che penso che sia la prima che trovo. Ah, io lo dico, mi sto annoiando. Non so quanto andrò avanti. Ivisaur lo cattura con un eccellente a giro. Epico? No, non lo cattura con un eccellente a giro. Ivisaur, impegnati. E un altro Registil, catturato. Che poi con tutti questi raid, un fortunuovo, potevo attivarlo. 5 baccalampo, un 12 caramella dorata. Si gode, si gode. Vediamo se si gode ancora. Vediamo se si gode ancora più forte. Non si gode più forte, peccato. Guarda Registil, quando vuoi attaccare, attacca. E non ti voglio mettere fretta. Shiny check. Vediamo. Unlucky. Via la felpa che porta palesemente sfortuna. Shiny check numero. E' meglio non saperlo. Normale. Puntilotta buoni. E un altro Registil portato a casa, forse, il più alto fino ad adesso. Visto che siamo sotto fortunuovo. Un eccellente a giro per ridere su Weedle. Ah, che stranezza. E i PL fanno schifo. Caramella L, che bello. E dopo 10 raid di Registil, sono ben due caramelle L. Fantastico. E siamo pronti per lo shiny check. Numero. Ho perso ufficialmente le speranze. Quindi andiamo a vedere se questo è un numero fortunato. E non è un numero fortunato. Ah! E comunque siamo a 11 Registil fatti, di cui 10 catturati. Quindi per ora ancora niente di preoccupante, diciamo. Se non per il fatto che ho superato il numero che mi ero ripromesso, cioè 10. Ma lo shiny non è ancora arrivato. E che fai? Non lo cerchi? E cerchiamolo un altro po'. Eccolo qua. Sono sicuro è la volta buona. Guardatelo, guardatelo che verde. Quanto è bello verde. Non è verde? Però è bello, dai. Tutto sommato, anche se non è verde. E la situazione è abbastanza critica, perché non lo trovo, ma lo troverò. Quindi direi che vi lascio direttamente al check dello shiny. O di qualche Registil con pielle alti, se dovessi trovarne con pielle alti. Ecco, tipo questo non è shiny e ha pielle bassissimi. In pratica un bidone dell'immondizia con 7 punti rossi sulla faccia che cammina. Oh, sentite, è lato positivo. Da quando ho attivato il Fortu Nuovo, sto farmando più o meno abbastanza punti esperienza. Oh, guarda, un altro bidone dell'umido. Allora ragazzi, vada come vada, questo sarà l'ultimo, perché sto andando avanti da ormai... 3 ore e mezza. Ho visto i pielle, dovrebbero essere buoni, dovrebbe essere il migliore che ho trovato fino ad adesso. Quindi, sotto quel punto di vista, attenzione, e stiamo attenti. Il Fortu Nuovo è scaduto, quindi non ho preso i punti esperienza doppi. Vediamo se è anche shiny. E non è shiny. Però, 1394. Questo dovrebbe essere buono. Non so quanto buono, ma dovrebbe essere buono. Quindi, concentrati, non trolliamola. Anche se è 20 minuti che catturo Registeel, catturiamolo. Che odio. I raid da remoto, veramente, saranno 8-9 mesi che c'è questo glitch bug, chiamatelo come volete, della Pokéball che si frizza sullo schermo, che ti impedisce di tirare. E ancora devono correggerlo. Sarà il tiro decisivo? Non è il tiro decisivo. Ci mancano 8 Pokéball. Oh, catturato. Ce l'abbiamo fatta con il tiro più brutto che io abbia mai fatto. Ma lo abbiamo catturato. Allora, andiamo sul Pokédex. Andiamo sulla schermata di Registeel. E ufficialmente, dopo 23 raid fatti in un pomeriggio e 21 catturati, mi sono arreso perché non ho trovato lo shiny. Diciamo che, essendo la percentuale di shiny nei raid 1 su 19, ci può anche stare sì. Sono stato sfortunato. Ma c'è chi è messo pezzo, per carità. Cioè, sicuramente chi è messo pezzo. Andiamo un po' a vedere. 21 Pokémon catturati. Non so se li valutiamo tutti, ma sì, valutiamoli tutti a partire dei due più scarsi. Sono veramente curioso. 1.339 che è un 11, 12, 10. Esattamente uguale a quest'altro. Quindi continuiamo a scorrere fino ad arrivare in cima per vedere se ce n'è qualcuno di interessante con i V buoni. 13, 14, 15. 13, 15, 15. Quindi il primo 96%. 15, 10, 14. Punti lotta alti solamente perché ha 15 d'attacco. 91 con 15 d'attacco. 91 con 15 d'attacco. E il 1394 era un 98% con 15 d'attacco. Se non sbaglio, un tempo per usarlo in Lega Ultra era consigliato il 100% perché si maxava sotto ai 2500 PL. Sinceramente non so se la cosa con il livello 50 sia cambiata. Diciamo che il 98% ce lo facciamo andare bene. Anche se non è uno shiny. Mannaggia lui. Tra l'altro un'altra cosa da notare. 23 ride, solamente 3 caramelle L. Quindi circa una ogni 7-8 ride. Allora io vi ringrazio per la visione. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale, a passare su Instagram e Twitch. Trovate tutti i link in descrizione o nel primo commento in evidenza. Fatemi sapere con un commento se voi siete riusciti a trovare Regi Steel Shiny. E detto questo, buona serata a tutti. Sì, troveremo lo shiny.